Il suo programma elettorale in un minuto. Il mio programma è un programma in continuità con quanto fatto finora, soprattutto dal gruppo di Forza Italia. Ed è un programma capace di individuare delle priorità. Quindi attenzione agli ambienti scolastici, collaborazione con le scuole per consentire agli alunni di partecipare maggiormente alla vita della città, restituire la sala civica, recuperare la sala Pozzi, riqualificare l'esterno del cortile della scuola elementare di Via Dante, la palestra di Via Borsi, riqualificare gli spazi sportivi già esistenti, accordi con le associazioni culturali e sportive, revisione del PGT con particolare riguardo al centro storico e alla viabilità, una politica di attenzione e di controllo e lotta all'abbandono dei rifiuti, con accordi anche con il Parco del Ticino, attenzione alla persona, alla famiglia, ai disabili e ai minori, soprattutto andando a potenziare i servizi già esistenti e una nuova politica di lotta contro le dipendenze. Il mio programma elettorale in un minuto te lo sintetizzo in un semplice slogan, fare l'oggi, progettare il futuro. Sono convinto che il compito di un'amministrazione comunale debba essere quello di elaborare progetti a medio e lungo termine. L'ordinario debba essere la base, quindi non bisogna basare il programma sul chiudere una buca o fare manutenzione a impianti. Bisogna guardare oltre e creare progetti che durino nel futuro. Il nostro programma elettorale, essendo una lista di tipo ambientalista, ecologista, si basa principalmente su tre temi, ambiente, sociale e cultura. Credo che sia impossibile e riduttivo illustrare le nostre 26 pagine di programma elettorale in un minuto, però mi voglio focalizzare su alcuni punti che io ci tengo tantissimo. Prima di tutto la sicurezza, nel 2014 abbiamo iniziato un programma per la videosorveglianza di cui ora come ora abbiamo circa 40 postazioni di telecamere su tutto il territorio e grazie alla collaborazione della Polizia Locale vengono controllate e viene controllato il nostro territorio 24 ore su 24. Abbiamo anche instaurato il controllo del vicinato che ha avuto un grande successo tra la cittadinanza. Ci sono circa 60 referenti con coinvolti più di 600 persone. L'altro punto che io veramente ci tengo è i lavori pubblici, visto che sono stato assessore per gli ultimi anni. Andremo veramente in questo periodo a cercare di completare tutte le opere che stanno per partire, dalla palestra di Via Borsi alla ciclabria di Cascine Elisa di cui è 20 anni che la frazione l'aspetta e non per ultima la casa di riposo che fra pochi giorni partiranno con il cantiere. Un'altra cosa che volevo ricordare era il sociale. Nel sociale ci siamo sempre stati attenti alle persone più disagiate e continueremo a esserlo. Poi c'è anche la buona scuola. Nell'ultimo periodo abbiamo sempre fatto un piano diritto allo studio molto molto strutturato e cercheremo di migliorarlo anche con progetti più innovativi per la scuola. Il mio programma elettorale è un programma breve e medio termine. Abbiamo progetti innovativi per migliorare la nostra città, con tutti i mezzi a oggi che ci dà la tecnologia a disposizione. Il comune deve tornare a essere la casa dei cittadini. La casa dei cittadini è diventare una città più pulita, ecologica, lotta serata all'abbandono dei rifiuti, con tutti i mezzi a oggi sempre a disposizione, tecnologici, umani o quello che si può avere. Samarate deve diventare una città plastic free, una città che applica la regola delle 4 R, riduci, riutilizza, ricicla e recupera. Creare una sinergia che unisca lavoro, commercio e artigianato e che fa sentire a questa realtà l'amministrazione vicina a loro. Investire nello sport come valore di crescita culturale e sociale e un'amministrazione deve appoggiare assolutamente sulla scuola e la cultura. Ascolto, partecipazione, buonsenso e fantasia. Ascolto perché è quello che ci ha consentito di costruire il nostro programma elettorale confrontandoci con i cittadini e le associazioni per capire le esigenze principali della città. Partecipazione perché riteniamo che anche durante il periodo di amministrazione si debba continuare a far partecipare i cittadini alla vita e alle scelte principali anche attraverso non solo il bilancio partecipato ma anche con strumenti innovativi. Buonsenso perché è quello che chiede la gente, perché la gente vuole che le esigenze di tutti i giorni vengano mantenute mentre si pensa e si progetta il futuro a medio e lungo termine. I cittadini hanno bisogno di una città curata, hanno bisogno di una città che si prende cura di loro. Fantasia? Fantasia perché i cambiamenti legislativi, sociali ed economici degli ultimi anni hanno cambiato il modo di amministrare una città come Samarate. Le vecchie soluzioni che andavano bene finora non possono essere più applicate e quindi bisogna avere il coraggio di guardare a quello che viene fatto di positivo anche in altre realtà e di copiare le buone pratiche degli altri.